ciao ragazzi benvenuti ancora ad una how to play oggi vi faccio sentire la parte finalissima della canzone dei Red Hot Chili Pepper Dark Necessities cosa mi ha colpito di questa parte sono i bicordi finali molto bello e divertente da suonare allora innanzitutto vediamo gli accordi e poi per il basso poi andremo a metterci sopra la terza che in questo caso sarà una decima perché viene presa un'ottava sopra allora i bassi sono la bemolle che prendiamo tutti sulla corda di mi tasto 4 la bemolle poi sarà una bemolle maggiore poi andiamo a tasto 13 e prendiamo il fa sarà un fa minore poi tasto 8 do minore e poi si bemolle tasto 6 sarà un si bemolle maggiore gli e bassi li prendo con il pollice perché con l'indice vado a prendere la nota che mi determina se è maggiore o minore cioè la decima sarebbe la terza un'ottava sopra allora la bemolle maggiore quindi se io la bemolle faccio la sua ottava poi vado a calcolare la sua terza maggiore la bemolle si bemolle do ok potrei suonarlo così però per dare più profondità sul basso spesso si usano si usa fare l'ottava bassa e poi la nota più acuta questo modo le due parti si sentono ben distinte quindi per gli accordi maggiori funziona che prendo la corda più bassa in questo caso la bemolle poi vado su quella la corda più piccola corde di sol tasto 5 e becco il do se l'accordo fosse stato minore io l'avrei preso come quasi come se fosse un gran barré sentite questo qua minore per i maggiori funziona così per i minori così ok questa cosa qua mi tornerà utile sugli altri accordi quando troverò il minore la bemolle ricapitolando maggiore la bemolle do poi fa minore vado a tasto 13 in questo caso fosse stato maggiore avrei preso sulla corda di sol il tasto 14 fa maggiore fa minore tasto 13 corda di sol ok ripartiamo la bemolle fa minore do minore tasto 8 corda di mi essendo minore sempre tasto 8 corda di sol il mi bemolle mi bemolle do mi bemolle poi qua scendo su si bemolle maggiore quindi si bemolle corda di mi tasto 6 re terza maggiore tasto 7 corda di sol riprendiamoli da capo tra l'altro notate la mano destra pollice che prende il basso e indice che prende l'acuto quasi strappandolo forse strappato però sarà così invece viene fatto in maniera molto più soft fa minore do minore si bemolle maggiore divertitevi grazie a tutti per aver visto questo video vi chiedo come al solito un like una condivisione sul vostro canale grazie a tutti alla prossima ciao buona musica carlo